Ci sono stati degli avvistamenti all'isola dei famosi che hanno messo praticamente in guardia tutti. Allora, lunedì, lunedì, quest'oggi, fate attenzione perché succederanno delle cose, delle cose. Io non voglio anticipare niente, anche perché tante cose non posso saperle, ma sapete che ci sarà la diretta tv, direttamente dalla spiaggia dell'Honduras, Playa di Caio Cocinos, proprio per essere super precisi, dove vedremo i concorrenti collegarsi in studio con la presenza di Ilari Blasi e avere quell'occasione di mettersi in gioco per restare in gara, si sa, no? E sopravvivere a fame, intemperi, insomma, un po' di tutto. Ma questa nuova puntata andrà in onda in prima serata su Canale 5 e, come sempre, ad accompagnare Ilari in questo suo timonaggio, in questo suo grande viaggio, ci saranno gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, che non mancano mai. Sono già tre i naufraghi che hanno dovuto lasciare l'isola dei famosi 2023. Marco Predolin, Claudia Motta, ha lasciato il reality a causa di un infortunio, e Nathalie Caldonazzo. La showgirl è stata eliminata dal televoto, ma al momento si trova in solitudine sull'isola di Sant'Elena. Il conduttore Mediaset, invece, aver lasciato l'isola di Sant'Elena su Consiglio dei Medici, sarà in studio con Ilari Blasi e gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Questa notte i naufraghi dell'isola dei famosi hanno fatto uno strano avvistamento durante la notte. A spiegare meglio, infatti, ci ha pensato Christopher Leoni raccontando i dettagli a Marzo Mazzoli e Paolo Nois. Stanotte ho visto l'animale della foresta. Era un essere brillante. L'abbiamo visto laggiù. L'abbiamo avvistato io e Nathalie. Volevamo svegliare anche Elena. Era grosso e tutto luminoso. Non salta, cammina e si muove normalmente. Il racconto del naufrago dell'isola dei famosi 2023 è proseguita. Non penso che sia qualcosa di pericoloso. Giuro che l'ho visto davvero. In Brasile ci sono di queste cose nelle foreste. Storie di folclore, ma sono verissime. Mentre Christopher Leoni parlava è passato Alessandro Cecchi Paone, il quale ha confermato il bizzarro avvistamento. Un omino luminoso sulla montagna? Oddio, ma l'ho visto anche io ragazzi. Color giallo. Luce gialla lassù. Impressionante. Mi sono chiesto cosa potesse essere. No che non era la luna. Era davvero altro. Sono serio. Sapete che sono scettico e su tante cose non sono d'accordo. Ha detto il naufrago dell'isola dei famosi 2023. Il racconto di Cecchi Paone sull'avvistamento all'isola dei famosi 2023 è proseguito. Stava fermo e poi si muoveva un po' in mezzo agli alberi. Poi se n'è andato e poi è tornato. Ma grande. Non era una cosa piccola. Le storie del folklore su gnomi, fate e folletti le conosco. Si parla anche di spiriti della natura. Però devo essere onesto. Io una cosa così strana non l'avevo mai vista. Sono rimasto in difficoltà e senza parole. Non so cosa possa essere. Si era un'entità luminosa color giallo chiaro. Io non dispongo di strumenti scientifici per poter dire cosa fosse con precisione. Mi sono detto, ma sto sognando. Non scherzo. No, non stavo sognando perché poi ho continuato a vederla. Cari amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio per la visione. Mi raccomando, lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina. Oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo, vi saluto. Mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.